Amici di Weekend Dance siamo a Milano in Viale Corsica 21 dai nostri amici Birent, noleggio di auto a lungo e breve termine parliamo con il presidente Vincenzo Brasiello, benvenuto e ti trovi in ottima forma Ciao Dino, no questo non lo puoi dire La sede storica di Birent è Sant'Antimo a Napoli, gli uffici in via Caracciolo ma è nata questa cosa fantastica, è nata Brasiello qui anche a Milano in Viale Corsica Sì, è nata qui la Birent, su Milano ci siamo organizzati veramente bene con il gruppo Birent stiamo facendo un lavoro strepitoso, sta dando degli ottimi risultati Quali sono i servizi che offre il gruppo Birent qui in Viale Corsica a Milano? Stiamo cercando di mettere un bel progetto in bieti, il car sharing con le auto elettriche sarà un progetto bellissimo e innovativo perché il nostro progetto sarà il vero car sharing qui su a Milano ci stiamo lavorando da un po' di mesi, credimi sono stanco come non mai però lo sto facendo veramente per tutti i giovani che credono in me voglio dare un futuro a questi giovani perché veramente ne hanno bisogno è un po' di tempo che come ben tu sai il governo tra una cosa e un'altra non riesce mai a mettere in bieti un futuro per i giovani io ci sto provando da un po' di anni, mi sono avventurato in questa cosa sto dando tutto a me stesso, credimi Dino sono carico come non mai qui a Milano sono arrivato l'anno scorso ti posso garantire che dall'anno scorso a oggi su Milano ci cercano tutti Vincenzo stai organizzando una festa bellissima il 12 di aprile in uno dei locali più alla moda della nightlife milanese El Coast, zona Corso Como che cosa accadrà il 12 aprile con la festa Birentra? Via Tito Spero Milano si scatenerà l'inferno, al mio via tutti i tuoi amici di Milano, quelli di Napoli? tutti i miei amici di Milano e alcuni amici miei di Napoli invitare anche noi di Weekend Dance, no? certamente, tu sarai uno dei miei primi ospiti a Milano l'appuntamento allora è per il 12 di aprile di Scoteca Cost, zona Corso Como a Milano per questa grande partenza del gruppo Birentra vi aspettiamo tutti quanti, in particolar modo gli amici miei da Napoli mi farebbe veramente un mezzo piacere se venite vi aspetto intanto per una grandissima serata grazie a tutti